ciao ciao ragazzi siamo le domani in questo nuovo video ci faremo l'iMaiRai Challenge andiamo a vedere il mio video allora prima domanda hai mai frequentato qualcuno mentre hai fidanzato con altri? forse io no sono una brava ragazza la seconda domanda uè non lo so hai mai diventato tutto l'uomo? si in un momento ci sono hai ammettito a qualcuno tu dai nel diretto perchè non volevi niente accompagnarsi? si si oh basta accucciare allora allora questa è la fiella nonno non non Ki hai mai cantato sul cucicolo della montagna la montagna sottilie che saldo biancheria in cima dell'altro sesso? no 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 hai mai mettito sulla piedra? ho voglia hai mai vedato il bello del guacquà? no raga questo lo devo proprio vedere questo è il bello del guacquà no 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 poi la prossima a me hai fatto orgoglio con le mie percote Siiii Sto andando dentro Sionando dentro Dentro lombre Si perchè sono dentro l'unico È a fluta Stavorendo Poi hai mai cantato in tubico? Sii Soprattutto Lo faccio più farlo Anzi vuoi dire Hai mai fatto la baby dance? Tante volte Certo è una tendenza stupenda È la vita, è la vita, è proprio la vita Hai mai ballato il ballo della panza? No Poi dire una benda, la benda è illlo del ballo della panza Non mi riesco la danza, io ho fatto quella panza Troppa La donna è proprio troppa, sì, io ho fatto quella panza Sono il palco della panza, mi sto qui Certo è il risultato, ma mi faccio l'amore E' subito Grazie a tutti.